salve a tutti ragazzi sono poche tonks benvenuti alla sesta parte di piante contro zombie iniziamo casa di toks casa mia lol a qui si cominciano ad apparire anche i zombie giavellotto è potenza pianta allora questo livello dura se no che sta di 18 più qualcosa quindi quattro minuti e mezzo bello vedete già sotto quindi non interessa asin nella scorsa parte abbiamo ottenuto il tubero esplosivo explosive patata e praticamente continuiamo io adesso quando un pianto nessuna nient'altra cosa aspetto che mi arrivano per piantare questo davanti perché vi ricordo che io di solito riempio due file piene di girasoli o di cosi che possono dare il sole e se non voglio tra poco cominciare a mettere anche i tuberi esplosivi no non mi ricordo ah ah fregato mi volevi fregare ecco si cominciano a mettere il tubero esplosivo troppo avanti l'ho poche tonks ormai mi chiamano così cioè su skype almeno beh voglio fare in ferretta quindi non mentre ci sono errori di narrazione che voglio giocare a recoded e poi devo andare a fare i compiti quindi svegliamoci stupido zombie cono stranale stradale non si intera dire questo è un normalissimo livello solo che avremo anche i zombie appena escono i zombie cosi beh quando escono ve lo dico adesso io ho messo la luce di cocco là così mi evita di mangiare di mangiare la tubero perché come sapete ci metto un po' prima di nascere e quindi e quindi lol allora io sono finito di registrare fino alla par ah ma questa che parte è boh ah si questo è il livello 1-6 ok non mi ricordavo che livello fosse comunque questi zombie avevano la straordinaria abilità di saltare una delle vostre piante quindi vi consiglio uno di stare attenti perché se no vi arrivano direttamente se avete solo una pianta vi arrivano direttamente in casa e poi di mettere una noce di cocco davanti al tubero esplosivo in modo che quando lo zombie con l'asta salta la noce di cocco arriva direttamente sul tubero esplosivo mi sembra che in questo livello vediamo esplodere la patata ah lol esplodere la patata no adesso non voglio perché no allora dovrebbero avere la stessa ecco vedete pam explosion patabomb l'avete capita patabomb haha ok lame ho capito volete cervelli ah comunque guardate verso la fine del livello quanti soli ho cioè quanti soli c'ho e ditemi se non è una buona cosa avere così tanti soprattutto nei livelli patabomb nei livelli finali comunque vabbè adesso finisce la parte quindi quindi boh prendiamo la prendiamo il muro prendiamo questo cilio di esplosiva e 3 2 1 explosion e poi esplode ah no nel prossimo livello che ho più di 1300 soli praticamente nel prossimo livello vedrete che succede ora cos'è abbiamo ottenuto una sparabrina spara semicongelanti che teneggi agli amico un ciao da pocket thongs e poi non 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 un Grazie.